Nell'auditorium Giancarlo De Carlo del Monastero dei Benedettini si è tenuto il penultimo appuntamento del ciclo dei seminari d'Ateneo, territorio, ambiente e mafie, giunto alla decima edizione. L'incontro dal titolo Mafia e narrazioni è stato seguito da numerosi studenti, sia in presenza sia collegati online. Saluti iniziali della professoressa Rossana Barcellona, quindi il professore Antonio Pioletti, ideatore e fondatore dei seminari d'Ateneo, ha coordinato il dibattito. Pioletti ha posto l'accento sul particolare interesse offerto dalla narrazione letteraria nell'interpretazione del fenomeno mafioso. La letteratura sempre detiene e comunica più verità di quelle discipline che si ritiene attingono alla più oggettiva verità, afferma Leonardo Sciascia nel racconto intitolato Il fuoco nel mare. Con i suoi mezzi specifici, ha affermato il professore Pioletti, la letteratura ricrea il reale, lo trasferisce in visioni e immagini che permettono di sondarne i fondali più riposti. Penetra in faglie che possono dischiudere l'incoscio, pone domande che spingono all'autoriflessione. Con le grandi qualità di cui parla Calvino nelle sue lezioni americane, la letteratura ha questa particolare funzione e importanza. È dunque di grande interesse esaminare quale tipo di immagine, quale tipo di rappresentazione la letteratura ha dato e dà delle mafie. La parola è quindi passata da Attilio Scuderi, professore associato di letterature comparate all'Università degli Studi di Catania. Il professore Attilio Scuderi passa attraverso citazioni tratte dal libro di Isaia Sales, Storia dell'Italia mafiosa, riflessioni sulle inchieste condotte nell'Italia postunitaria, sulla narrazione dell'esperienza personale, narrata da Andrea Camilleri, né la bolla di componente e sulla condizione del professore Laurana nel racconto di Leonardo Sciascia in A Ciascuno il suo. Nel corso della sua approfondita analisi individua nell'antropologia della mafia parte dell'antropologia della violenza umana, che si basa, si struttura e si consolida grazie ad atteggiamenti remissivi, gregari proprio dello stato eteronomico di sudditanza alla violenza, in una situazione sociale nella quale l'individuo regola il suo comportamento secondo le direttive che provengono da una persona di stato superiore. Interessante anche l'intervento di Rosario Castelli, professore associato di letteratura italiana presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, dove insegna anche letteratura e cinema e didattica della letteratura. Le sue riflessioni muovono dall'articolo intervista di Leonardo Sciascia, pubblicato il 10 gennaio 1987 dal Corriere della Sera con il titolo Professionismo dell'antimafia, attribuito dalla redazione e dal casus belli che ne derivò nel contesto particolarmente acceso di quegli anni. Il professore Castelli traccia la figura di Sciascia, quale ottente osservatore intelligente e studioso, oltre che sensibile e preveggente dei futuri sviluppi. Nel giorno della civetta è chiaramente espressa la necessità di seguire la pista del denaro per raggiungere i vertici politici del malaffare, piuttosto che inseguire il sogno delle leggi speciali, contrario ai metodi democratici e anche inefficace. Anche in a ciascuno il suo, dalle parole che Don Benito rivolge al professore Laurana, si evince il metodo prospettato da Sciascia, la via del denaro, che a 20 anni di distanza sarà il metodo applicato da Giovanni Falcone nella lotta alla mafia. Con la metafora della linea della palma che va a nord, Sciascia prevede anche la nazionalizzazione del fenomeno mafioso. Nel suo intervento il professore Castelli offre un'attenta lettura del ragionamento ampio e articolato di Sciascia sul fenomeno mafioso, che conduce oltre le accese polemiche suscitate dalla critica al carrierismo antimafioso. Adesso ascoltiamo le interviste proprio ai due relatori, Attilio Scuderi e Rosario Castelli. Questi sono seminari che ormai si sono consolidati nell'esperienza dell'Ateneo, del nostro dipartimento e hanno un'importanza rilevante perché consentono di costruire un ponte tra mondo della ricerca e la riflessione sui temi sociali, culturali, legati alle mafie e alle povertà sociali, da un lato e dall'altro la scuola, gli studenti e la società civile. Quindi sono un'esperienza di terza missione ormai affermata e di punta, di eccellenza dell'Università di Catania. Per i giovani questo ponte, che è un ponte di conoscenze, di ricordi, di memoria, è un ponte fondamentale. Se noi non vogliamo che tra le generazioni si costruisca, si consolidi un anello debole di narrazioni mancate, di memorie non condivise, di scarsa consapevolezza della cittadinanza e dei valori democratici e della legalità democratica, queste iniziative sono iniziative fondamentali. Quindi è per loro che siamo qua, ovviamente. La mafia si alimenta, le mafie, le forme di criminalità, si alimentano di narrazioni. Noi assistiamo oggi a un proliferare di narrazioni che hanno nell'immaginario camorristico-mafioso il loro centro. La mafia come tema sociale è un tema che rimanda ai modi in cui l'immaginario umano ha rappresentato la sopraffazione, la violenza, i rapporti non paritari, il dolore. Quindi ci sono tantissimi dentro, potremmo dire che quello della mafia o delle mafie è un campo tematico, un macro tema, dentro il quale la letteratura ha un ruolo rilevante e le narrazioni in generale. Intanto perché l'argomento, l'argomento mafia, l'argomento legalità, l'argomento tutela del diritto, della giustizia, del garantismo, sono argomenti sempre validi su cui occorre sempre tenere acceso un riflettore. Da questo dipende in qualche modo la tutela di principi democratici e di principi costituzionali. Quindi avere sempre una sensibilità, un'attenzione riguardo a questo tema, credo che non possa esimerci dall'affrontarli, da discuterli, soprattutto quando questi temi vengono affrontati con le nuove generazioni, con i nostri studenti. Anzi, servono anche un po' a ricostruire, come faremo anche oggi, certi contesti che per ragioni anagrafiche magari non sono molto presenti alle generazioni attuali. Il tema della lotta alla mafia è un tema che ci accompagna e che ha messo in crisi tante volte la tenuta democratica di questo Paese da diversi decenni. E' un tema sempre attuale, come dicevo prima, quindi è giusto anche che le giovani generazioni abbiano una conoscenza anche storica dello sviluppo di questo dibattito. Peshash è forse stato uno degli ultimi grandi intellettuali che questo Paese ha avuto. pochi altri hanno raccolto dopo di lui la sua eredità. Purtroppo Shasha visse gli ultimi anni della sua vita molto amareggiato da polemiche strumentali che misero in discussione quella che era stata anche la coerenza di un discorso sviluppato attraverso decenni in cui lui affrontò il tema mafioso dapprima in forma letteraria, in forma romanzesca ma poi attraverso una serie di interventi saggistici e non ultimo attraverso gli interventi parlamentari che fece quando fu eletto alla Camera. Shasha è stata la coscienza forse più vigile, più attenta della storia di questo Paese nel secondo dopoguerra. Raccoglierne ancora oggi la lezione e vedere come è quello che capita appunto ai grandi intellettuali che hanno anche grandi capacità profetiche anche se a lui non piaceva essere considerato tale. Ci dice anche della grandezza appunto di un intellettuale, la cui lezione, i cui principi, le cui riflessioni, le cui considerazioni sono sempre varie e si rivelano purtroppo sempre attuali anche a distanza di decenni. Giovedì 16 marzo appuntamento da non perdere nell'auditorium del Monastero dei Benedettini alle ore 16 con il seminario Mafia e antimafia sociale, il contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile, promosso dal Dipartimento di Scienze Umanistiche in collaborazione con numerose associazioni e vari dipartimenti universitari. Questo è l'evento finale della decima edizione dei seminari d'Ateneo Territorio, Ambiente e Mafia con la presenza di un ospite d'eccezione, l'Arcivescovo di Catania, Don Luigi Renna.